Un disastro per certi versi annunciato, nel senso che quando piove in maniera abbondante, anche per mezz'ora o poco più, come è accaduto questa mattina in alcune zone di Pescara, gli allagamenti sono assicurati. Il problema non è di oggi e nemmeno di ieri. È antico e a quanto pare nessuno è stato capace di risolvere. La speranza è che l'acqua duri poco o che i tombini facciano il loro dovere, altrimenti per limitare i disagi bisogna fare come la famiglia del signor Lucio, titolare di una palestra, ovvero armarsi di spazzolone secchio per limitare i danni che pure ci sono. Abbiamo chiamato le forze dell'ordine, i vigili e quant'altro, però ormai la situazione già era troppo tardi. A me ha creato diversi danni, ho ancora da quantificare, il computer sicuro che mi è andato, speriamo che non si sono rovinati i tapirulani. Il pavimento della sala corsi ho visto che è andato, comunque non solo io ma anche le altre attività qui hanno subito dei grossi danni. Purtroppo questa è una situazione che non è nuova per via Gran Sasso, in quanto già è successo anni addietro, però continuano sempre questi tombini che non assorbono l'acqua e si crea il solito disagio. Disagio che purtroppo costa denaro a chi come me fa enormi sacrifici per mandare avanti una famiglia. Chi mi gli dà i soldi per recuperarli? Ho anche due figli all'università io. Siamo partiti da Pescara dove è stato attivato il COC, centro operativo comunale per le criticità. Attivati uomini e mezzi della polizia locale, personale comunale, squadre di ambiente e protezione civile. Questa idrovora è capace di succhiare 8.000 litri d'acqua al minuto. Decine anche le richieste di soccorso arrivate ai vigili del fuoco per allagamenti in negozi o abitazioni. Al momento la situazione non presenta particolari criticità, tanto che a Pescara domani le scuole saranno aperte, eccetto lo scientifico da Vinci. Tuttavia per le prossime 24-48 ore il bollettino diramato dalla protezione civile allerta che sono previste altre piogge abbondanti. I disagi inoltre hanno interessato altre città della costa, da sud a nord. Qui siamo a Francavilla al mare dove oltre agli allagamenti dei sottopassi, un classico, ci sono le immagini un po' inquietanti all'interno della galleria della circonvallazione. Situazione pesante anche a Montesilvano, anche qui è stato attivato il coc e a Spoltore. Più a nord da segnalare un fulmine che ha colpito e danneggiato la cupola della chiesa della Santissima Annunziata nella frazione di Montepagano. Alcuni frammenti sono caduti all'interno dell'edificio, in quel momento fortunatamente vuoto.